In sintonia con il cronoprogramma dell'intervento sono iniziate le operazioni di varo del ponte ciclopedonale sul Marecchia, parte del progetto di ricostruzione del ponte di via Coletti. Le operazioni sono partite dalla sponda nord, i componenti in carpenteria metallica saranno assemblati e spinti con mezzo meccanico verso l'altra riva. Al termine delle operazioni di montaggio verranno rimosse tutte le piste realizzate per permettere la costruzione della grande passerella che permetterà il passaggio da Rivabella a San Giuliano Mare di biciclette e pedoni durante l'abbattimento e la ricostruzione del ponte di via Coletti. In particolare sarà consentita la circolazione in entrambi i sensi di marcia. La passerella sarà dotata di illuminazione nelle ore notturne, poggerà su due piloni e sarà realizzata ad un'altezza di sicurezza superiore a quella di una possibile piena del fiume. Servirà inoltre da sostegno e da passaggio per le reti dei servizi, luce, gas, acqua e telefono, servizi che durante i lavori non possono essere interrotti. Grazie a tutti.